I numeri sono in aumento da un po' di tempo per la verità, tant'è vero che anche la risposta è cambiata. Noi siamo passati da un dormitorio che di fatto era uno stanzone che veniva presidiato da Caritas e da Dei Volontari attraverso peraltro un rapporto stretto con la Questura, con i servizi sociali, alle dimore invernali che sono qualche cosa di più perché non è soltanto un luogo dove dormire, che va bene ovviamente, ma è anche un luogo dove ricostruire una cordialità con la comunità, quindi attraverso le dimore invernali si dà certamente un posto letto in un contesto più di casa rispetto a uno stanzone, ma soprattutto si entra dentro un percorso di supporto che vada oltre la notte e quindi cerchi anche di guardare ad un inserimento sociale più ampio, più complessivo. È evidentemente aumentato il bisogno e anche le risposte si sono specializzate, mi verrebbe da dire, grazie a Caritas che su questo è un'esperienza ormai antica e che insieme ai servizi innova anche le risposte in base ai bisogni. Ecco, in questa seconda modalità, più nuova, le persone vengono prese in carico proprio nel loro percorso di vita? Caritas ha sempre avuto questo atteggiamento anche ai tempi del dormitorio, nel senso che proprio la volontà di in qualche modo fare il pass e seguirli non era tanto e solo un elemento di controllo, ma era anche un elemento di accompagnamento. Questa formula permette che questo accompagnamento sia ancora più facilitato da una logistica, che a volte parte della risposta, che appunto aiuta la persona a sentirsi accolta in un bisogno primario, cioè dormire al caldo, ma anche rispetto ad una ricostruzione di un progetto di vita. Le dimore invernali sono anche questo, cioè la volontà di dare una risposta che non sia solo uno stanzone non freddo, ma che sia un luogo di inserimento sociale pienamente inteso. Per chi questa risposta non la vuole e sta fuori, è fuori freddo, allora Croce Rossa interviene con un supporto immediato di bisogno emergenziale per dare comunque una risposta di accoglienza che non è quella che noi vorremmo, ma forse quella che loro hanno scelto.